Ci buttiamo contro gli hacker, hackeroni, hacker, il termostatro, il termostatro Il video di Cantella sui ricopioni, fate schifo, fate schifo, siete dei ricopioni Non è vero, sì, non è vero, è verissimo Perchè non c'è un cazzo, perchè cicciurile caduti Se vieni qua ti do uno scudino Se vieni qua ti do uno scudino Arrivo, scappo, 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 scappo Scorri, scappa del Nemesis, merda Merda, cazzo di ma, che coi ma Corri, scappa del Nemesis, pezzo di merda Se vieni qua ci sta, ti do, anzi, due, mi mi scudo No, non ti inbevere, non ti inbevere Che anche qua ce ne sta un'altra E ti do anche questi qua Che sono forti Ti danno i superpoteri Non sai Cos'è? Hai un pompa? Eh, ce l'ho per me Cioè, in tutta la discoteca c'è un pompa? Te lo giuro Madonna Arrivò Uff Uff Ah, questa brucia Strontona Coi, coi, coi Guarda la fisica Guarda la fisica Ho ucciso uno C'è un altro Ti sta a destra Vabbè, io intanto va bene se avrò I giochi Cazzo sta No, no, vieni, vieni Ciao 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 Aiutami E' anche che so il cazzo Ok, l'ha finita Ucciso Ucciso Bastardo Me l'hai scelto E' un cazzo Corri dai, andiamo a portare alla macchina Stai guardando sulla macchina Guarda qua ci sta uno scudone Prenditi Prenditi quei mini scudo Così arrivi a full Perché non ti svegli Stanno qui Qui Stanno qui Mamma mia Stanno qui Sì Stanno qui Stanno qui Stanno qui Stanno qui E' più un po' che sta E' più lo scudo Dai corri che dobbiamo andare se mi dai un po di materiali ce l'hai un po di materiali guarda proprio quello che ti volevo chiedere ma noi dobbiamo andare adesso diritti via sull'autobus bastardo ci stanno aspettando i nostri amici a ma te manca uno di vita sbrigati 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 buon quelli che si incazzano sentono sempre il telefono in avanti ti diritti ti diritti ti diritti dai dobbiamo andare a questo bastando la ci sta uno no non ho no mi hai fatto cadere dai che devo andare in mezzo ma non lo voglio ah no scusa i tasti con 4 ricarico io in realtà con 3 ah vabbè ma che non mi frega ce l'hai una jump veloce per farla veloce se noi ci staranno tutti che ci insegono di qua sono passati ma proprio non è e quelli lì stanno aspettando con la scala pronta quelli lì stanno cazzo è che spara no non è a noi è l'altro diamante quindi ci siamo li hanno lasciato il coso si stanno fadendo perfetto si li hanno lasciato l'ama quelli là stavano pensando di sicuro all'ama e noi vedi che è caduto l'ama là per i dati veria gli possiamo inculare una cosa no è il nostro è il nostro coglione quanto fa per fortuna ancora diamo vai 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 oddio c'è quello carampino vai prendiamo un'altra scappa 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 vai prendiamo la i i oh i i i i i Vabbè ragazzi, spero che vi lascia in giro di raccoglie lo spogliere e ci vediamo il prossimo video.